Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo all'esterno, farò infatti una possibilità di provvedere un pezzetto del mio quartiere. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito, quindi ecco voi il video. Oh sì che bello, eccoci qua, finalmente siamo all'esterno, oggi è una bellissima giornata come potete vedere dal cielo, quasi quasi senza nuvole. Niente, questo è il mio quartiere, volevo portarvi con me, oggi è sabato e così ho deciso di andare a fare una passeggiata, un giro. Ecco, questo è il mio quartiere, vi faccio vedere, potete notare le classiche case americane con la macchina parcheggiata all'esterno, la cassetta delle lettere, queste grandi strade con tutte queste case quasi tutte uguali, ecco. E' bellissimo, questo quartiere è molto tranquillo, è veramente un bel quartiere, ecco, vedete ci sono tutte queste macchine, questi SUV parcheggiati fuori dalle case. E niente, questo volevo solo essere un giretto per mostrarvi un po' il mio quartiere, per mostrarvi un quartiere, un classico quartiere americano. Poi, quando mi trasferirò nella nuova casa, no, non cambio famiglia, ci trasferiamo solo, cambiamo casa e vi farò fare un altro giretto dell'altro quartiere che è ancora più bello. Ecco, vedete qui c'è la discesa che porta a casa mia, con tutte le cassette della porta allineate lungo la strada. E questo è New Albany, questa è l'Indiana, questa parte del paese è un po', diciamo, questa parte del paese è collinare, vedete infatti tutte le case non si trovano sullo stesso piano, e sono tutte un po' in pendenza, vedete, e spero riusciate a sentire perché non ho con me le cuffie, come appunto vi ho detto perché le ho perse, e spero riusciate a sentire lo stesso con il microfono del telefono. Ecco, vedete, cazzetta della posta. Vedete, il camion di FedEx che passa, direi che per oggi la nostra passeggiata l'abbiamo fatta. Vedete, 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 vedete. Questo era il video, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate sotto con qualsiasi domanda, io vi rispondo sempre, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao!